Ecco, l'American Association of Teachers of Italian è un'associazione che ormai vanta quasi 100 anni di astro. E accomuna, diciamo, docenti ma anche insegnanti di scuole superiori in tutto il Nord America ma anche in altri paesi dell'Europa, del mondo. Più o meno circa 25 diversi a questo convegno qui a Cagliari. E' nato ovviamente l'anno prima a Palermo quando sono stato contattato, mi è stato chiesto prima da Laura Nietu perché non farlo a Cagliari. Dopo ho parlato con il professor Maurizio Virdis che ci ha dato la sua disponibilità. Abbiamo deciso che Cagliari era una sede opportuna, diciamo, per fare questo nostro convegno. E devo dire, diciamo, che quanto scegliamo un'università la scegliamo con cura. La scegliamo con cura perché vogliamo associarsi ad un'università specifica, non a qualsiasi università. In poche parole vogliamo che, diciamo, con questi convegni, diciamo, l'università metta in luce, in un certo senso, l'ETA e non viceversa. Grazie.